6 gennaio, buon fin... no, questa che è a radio, aspetta... Ciao a tutti e bentornati su Antropolingua e buon 2021! Oggi è il 6 gennaio e in Italia non si festeggiano solamente i re magi di tradizione cristiana, ma anche un qualcosa un po' più di origine pagana, la Befana. In questo video non parlerò di tutte le leggende connesse con la Befana perché sarebbe un discorso molto complesso e richiederebbe troppo tempo. Voglio invece raccontarmi la mia esperienza da bambino, ma prima un po', un pochino di storia. Nonostante le sue origini pagane e precristiane, il termine Befana avviene dal termine Epifania, di solito celebrata in tutti i paesi cristiani. Epifania avviene dal greco antico Epifaino, quindi mostrarsi, presentarsi. E chi si mostra, chi si presenta, chi si manifesta il 6 gennaio? I re magi. E così fa anche la Befana con tutti i bambini. Ma chi è la Befana? Anche se spesso viene rappresentata come una strega, la Befana altro non è che una vecchietta un po' scorbutica, che indossa dei calzettoni, dei gonnelloni lunghi, delle scarpe un po' rotte, uno scialle sulle spalle, una sciarpa invernale, uno sciarpone attorno al collo, e un fazzolettone sulla testa. Quindi non un cappello a punta come una strega. Da bambino, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, mia madre mi diceva di lasciare in cucina una calza appesa, del latte e dei biscotti o una banana, perché in quella notte sarebbe arrivata la Befana. E infatti la mattina dopo io mi svegliavo, tutto contento, andavo in cucina, e che vedevo? Uno, il latte e i biscotti erano finiti. C'è la Befana! Due, nella calza appesa al camino, c'erano liquirizie, dolci, caramelle, cioccolatini, di tutto e di più, e anche del carbone. Eh già, perché la Befana porta tutte cose dolci e molto buone e deliziose ai bambini bravi, ma a chi si comporta male, o chi va male a scuola, ognuno trovava la sua giustificazione, porta il carbone, o secondo alcune altre teorie, l'aglio. E già qui sono tante le associazioni con San Nicola e altre tradizioni regionali sulle quali non mi dilungherò in questo video. Ma qual è la cosa bella della Befana? È che anche la mamma o la nonna adesso possono far contenti i figli o i nipoti, così come il padre o il nonno facevano con Babbo Natale. Altro motivo per cui la Befana è spesso considerata un alter ego femminile del ciccione barbuto con le renne, Babbo Natale. Addirittura sembra che il 6 gennaio le donne si scambino auguri e regali come se fossero tutte Befane. Ovviamente non chiamate Befana nessuna donna perché da noi è un insulto. Infine va detto che in diverse piazze italiane si celebra la Befana con eventi pubblici. Per esempio a Venezia c'è la famosa regata delle Befane dove i gondolieri gareggiano tra di loro travestiti da Befane e a Roma c'è, perlomeno c'era, il mercatino delle Befane a Piazza Navona. E in ultimo voglio lasciarvi con una fila strocca, ossia una piccola poesia cantata che varia da regione a regione e che riguarda proprio la Befana. La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla romana viva viva la Befana! Quindi grazie per essere stati con me e buon fine di festività perché come dice il proverbio è arrivata l'epifania che tutte le feste si porta via! Ciao!